ciao ragazzi ciao ciao Occhio qua eh Occhio qua Occhio qua Guarda pure qua Guarda pure qua Mariano c'è? Guarda pure qua 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 oh il fettucciato mamma mia se c'è ragattino certo sono d'accordo ho sbagliato occhio qua occhio pure qua ah 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 mi fermo aspetta mariano già ma cosa è qua va ah 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 Ok Occhio! Grande Gio, ho presa male! Ci sei? Il fondo è perfetto! Veramente perfetto! Occhio! La dossa quella eh! Ricancio! Aspetto Mariano! Certo! 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 Occhio qua eh! Certo! 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 Certo!